Ciao, sono Zanio di Turbolab.it. Oggi è il 10 luglio 2018 e voglio raccontarti le principali novità dal mondo delle criptovalute degli ultimi giorni. Seguimi! Dunque, nella giornata di oggi le criptovalute hanno sostanzialmente conservato la loro capitalizzazione, ci sono un po' di player in rosso, ma la maggior parte del mercato ha comunque continuato con la fase di accumulazione laterale che ci aspettavamo. Ci sono un paio di notizie però molto molto interessanti. Una delle principali è questo studio pubblicato dall'Imperial College di London in collaborazione con Etoro, quindi con il broker Etoro, nel quale gli studiori sostengono che vi sono alcuni tasselli che lasciano presagire bene per il mondo delle criptovalute. In particolare Bitcoin potrebbe diventare entro una decina d'anni una nuova forma di pagamento universalmente accettata. Ovviamente ci sono molti se, molti ma e gli studiosi si mantengono comunque possibilisti, ma è comunque un buon segno per il mondo delle criptovalute. Un'altra notizia arriva appunto da questo concessionario BMW di Londra che ha iniziato ad accettare Bitcoin per la vendita di auto. Attenzione bene perché ho letto riportare che BMW accettava i pagamenti in Bitcoin. In realtà non è così perché si tratta di un singolo e specifico concessionario, quindi una cosa ben diversa. E comunque è una buona notizia perché come ho già detto più volte, una delle cose, degli aspetti che mi preoccupa di più per il mondo di Bitcoin e delle criptovalute è appunto la scarsa adozione. Vendere addirittura un'intera macchina tramite questo metodo di pagamento è sicuramente una buona notizia. Resta da vedere ovviamente se il concessionario manterrà questa politica sul lungo periodo o se si limiterà appunto ad aver introdotto questa nuova modalità di Bitcoin solo per farsi un po' di pubblicità. Staremo a vedere. Un'altra buona conferma arriva dall'articolo di Cointelegraph che è stato pubblicato alcune ore fa nel quale c'è un'analisi dei prezzi ed è interessante notare che l'editorialista di Cointelegraph si sbilancia e dice che credono che abbiamo raggiunto il fondo della discesa dei prezzi delle criptovalute. Quindi confermano un pochino quello che era anche il mio sentimento di ieri. Probabilmente abbiamo raggiunto il fondo, cominceremo con una fase laterale per poi ricrescere progressivamente. Anche l'editorialista appunto di Cointelegraph sostiene che non si aspetta un nuovo decollo verticale ma più una crescita progressiva, cosa che sicuramente è una buona notizia. Altra notizia interessante e importante per quanto riguarda l'adozione delle criptovalute su larga scala è appunto che il sito pornografico Pornhub ha iniziato ad accettare Tron e Zencash come pagamenti. Francamente non mi è del tutto chiaro a che cosa serva a pagare per Pornhub visto che tutti i video sono pubblicati dagli utenti e sono gratuiti ma tant'è comunque che è una buona notizia perché ancora migliora l'adozione e esporrà a una nuova fascia di pubblico al mondo delle criptovalute. Su Reddit poi ho trovato questo avviso molto importante, volevo condividerlo con voi. Poi c'è questa nuova similtruffa, chiamiamola così per non usare termini più decisi legati all'exchange che si chiama Fcoin, quindi un nuovo exchange con base a Singapore. Stanno appunto emettendo una loro valuta Fcoin attorno alla quale sembra esserci un pochino di aspetti che preoccupano. In particolare questo autore su Reddit segnala che il 99,98% di tutte le rewards quindi tutti i benefit che vengono dal conservare questa criptovaluta che l'exchange sta vendendo ai propri iscritti sembrano essere in mano all'exchange stesso. Quindi c'è diciamo una criptovaluta pochissimo decentralizzata ed in particolare che sta pompando moltissimo l'exchange anche alla luce del fatto che ci sono dei volumi enormi quindi addirittura qua parla di 7 miliardi di dollari in volume che quindi sembrano essere stati mossi in maniera, non voglio dire truffaldina ma se non altro artificiosa con il solo scopo di spingere verso l'alto il prezzo e creare un pochino di mercato attorno a questa nuova moneta. In particolare l'autore del post ricorda che è considerata una frode negli Stati Uniti e probabilmente anche in Italia questo tipo di operazioni. Ovviamente non c'è nessuna condanna sia perché ancora non si è provata effettivamente la volontà truffaldina sia perché si tratta di un exchange in Singapore e sia perché in questo momento tutto il mondo delle criptovalute è scarsamente se non per nulla regolamentato quindi non c'è un vero e proprio crimine ancora considerato. Un'altra buona notizia viene appunto dalla Sud Corea nella quale gli exchange di criptovalute sono stati associati quindi sono stati paragonati e assimilati agli istituti finanziari quindi sostanzialmente alle banche. E' una buona notizia perché legittima appunto l'operato di questi attori in Corea del Sud. Un'altra buona notizia arriva dal mondo di NIO chi conservava NIO alla volta del primo marzo sta per ricevere una nuova ondata di ontologi come avevamo detto su Turbola.it qualche tempo fa la distribuzione di ontologi a tutti gli owner di NIO che avevano NIO nel borsellino prima del primo marzo del 2018 è stata infatti in due fasi quindi la prima fase appunto era già stata avvenuta quindi avevamo già ricevuto degli ontologi mentre la seconda appunto partirà dal prossimo weekend quindi dalla settimana entrande. All'indirizzo che trovate qua sopra questa è la guida la trovate su Turbola.it con tutte le indicazioni sia per recuperare le monete ONT che ci sono state regalate e che ci saranno regalate nel prossimo weekend sia per maggiori informazioni sul progetto Ontology Altra buona notizia per gli utenti di NIO e di Tron ci sono state anticipate due novità un po' misteriose per il momento ci sono state solo anticipate per quanto riguarda NIO in particolare si parla di NIO 3.0 quindi nuova versione del protocollo e probabilmente anche del white paper questo dovrebbe portare ad un'impennata del prezzo sul breve periodo poi probabilmente ci sarà una ristabilizzazione però comunque è una buona notizia dal punto di vista dei movimenti della tecnologia Tron invece oltre ad avere acquistato appunto BitTorrent qualche mese fa ha annunciato un'altra novità ma Tron, quelli di Tron fanno sempre annunci di annunci di annunci quindi per sapere che cosa succederà di preciso e passeranno comunque parecchi mesi questa è appunto la grafica che hanno postato da NIO Smart Economy sui Twitter per pubblicizzare appunto l'arrivo di NIO 3.0 c'è un'altra conferma appunto che il CBOI quindi l'exchange di Chicago sta appunto varando chiesto di utilizzazione per l'ETF sui Bitcoin ne abbiamo parlato anche ieri sarebbe veramente una notizia bomba se venisse effettivamente pacchettizzato Bitcoin e tutte le altre criptovalute per essere venduti agli investitori istituzionali quindi ai big money quelli che hanno tanti soldi da investire un'altra buona notizia che segnalo appunto ci viene da Forbes parlano appunto di tre segnali che potrebbero far preasagire la ripresa del trend in risalita di Bitcoin staremo ovviamente a vedere in particolare di questo articolo mi ha colpito il fatto che si parla che ci sono soltanto delle 100 criptovalute analizzate soltanto 5 hanno subito un declino nelle ultime settimane quindi oltre a beneficiare Bitcoin sta beneficiando tutto il settore delle criptovalute quindi ottima notizia per la crescita di tutto il mercato bene per concludere su una nota negativa è stato rivelato che un exchange appunto Bancor un exchange ha subito un furto di 13.5 milioni in criptovalute e questa ovviamente non è una buona notizia per niente altra cattiva notizia è che YouTube sembra essere stato rimasto incastrato nella truffa BitConnect è stato accusato è stato citato per non aver svolto abbastanza sorveglianza su quello che succedeva cosa succedeva che praticamente le persone che avevano interessi legati a BitConnect facevano delle review le pubblicavano su YouTube e proprio YouTube è stato il principale canale con i quali sono stati truffati gli utenti che hanno deciso di investire in BitConnect è un peccato perché appunto il ruolo di YouTube se non per quanto riguarda la sorveglianza è sempre stato molto minore e ritorna in gioco sempre una cosa che abbiamo sentito molto dire che non è umanamente possibile non è sostenibile che YouTube controlli tutti i video che vengono caricati quindi qui si apre ovviamente una parentesi enorme su quella che è la responsabilità del fornitore dello spazio e della piattaforma in confronto a quello che è la segnalazione e la responsabilità dei singoli utenti che decidono di visionare e di investire su determinati valute ovviamente si può parlare di censura da un lato di mancato intervento dall'altro è una questione molto molto delicata cosa ci aspetta per i prossimi giorni? probabilmente ancora un pochino di movimento laterale per quanto riguarda il settore delle criptovalute ci aspettiamo sempre la crescita progressiva che abbiamo visto già da ieri se poi andiamo a vedere le novità del grafico rapidamente vediamo come si sta muovendo Bitcoin in questi ultimi giorni rispetto anche a ieri e quindi abbiamo visto di nuovo un pochino dicevamo di accumulazione ma non ci sono grosse novità bene da zanaditurbola.it è tutto come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di fare mi piace per me è sempre molto importante quindi grazie in anticipo se lo farete per il resto ci vediamo al prossimo video vi svelerò anche un evento che stiamo per lanciare qui a Ferrara molto interessante nel quale probabilmente avrò la possibilità di incontrare molti di voi al prossimo video, ciao!